PEGGI 16 Guardiani della galassia, siete venuti a cercare la verità. Gioite. La matriarca desidera condividerla. Uniti nella luce della fede, sofferenza e dolore avranno fine. C'è qualche problema? Credo che... Sì, forse sto avendo un infarto. Smettile immediatamente. Ok. Cosmo! Come va? Bello! Grande unificatore rete. L'idea di una chiesa universale della verità. Il rito, il prete, parlavano di una specie di promessa. Era come se fossero drogati o chissà che. Sembravano una setta. Quindi faccio investigare per te. C'è sempre trucco. Chiodo tranquilla. E non ben brutti di magia. Ehi, unimente! Ne è passato di tempo. Le probabilità attuali di sconfiggere la chiesa universale della verità sono pari allo 0,3%. È brutto? È brutto, eh? Sì, lo è. Spero tu abbia preparato un discorso coi fiocchi, Peter. Allora siamo in due. Seguitemi! Raffiutando la promessa, avete dato dimostrazione di essere indegni. E dovrete essere distrutti! Era tutto calcolato, ovvio. La Milano sta arrivando. Grazie, amico. La Milano sta arrivando.